Gustavo Tucumbe piange la morte del padre Innocenzi, ucciso negli scontri che dal 3 ottobre stanno segnando l'Equador. Scontri innescati dai fomentatori di odio che hanno trasformato in guerriglia una manifestazione per protestare contro le misure di austerità annunciate dal governo il 2 ottobre scorso e soprattutto per chiedere il ritiro del decreto che ha zerato i sussidi ai prezzi dei carburanti. Lo stato di emergenza per 30 giorni inoltre sta limitando la libertà di stampa e non consente di sapere quante vittime ci siano state in questi giorni. Da una rete che si chiama controinformazione locale equatoriana si parla di 7 morti e di una quantità di feriti intorno ai 50. Valentina Viper ha 32 anni, originaria di Macerata, da due anni nella capitale Chito coordina i volontari e i progetti di sviluppo della Foxy in Ecuador. La città è un completo deserto, gli uffici, le organizzazioni, gli esercizi commerciali se non sono chiusi tutto il giorno tendono a chiudere nelle prime ore del pomeriggio. La vita dei più vulnerabili è a rischio con l'azzeramento improvviso dei sussidi statali che mantenevano accessibili i prezzi di benzina e diesel. Il diesel è arrivato a un aumento del 123%, l'aumento della benzina come tutti sanno ha un effetto domino su tutti gli altri prezzi. Quindi inevitabilmente la classe media e povera dell'Equador sarà quella che pagherà il prezzo più alto di questo azzeramento.